E' in corso da questa mattina il pastificio Agnesi di Via Schiva Imperia, la riunione fra i vertici della Colussi, rappresentanti di sindacati e lavoratori e Confindustria Imperia. Per conoscere i risultati dell'incontro bisognerà ancora attendere qualche ora, ma stando ad alcune indiscrezioni, sembrano emergere timidi segnali positivi. Intanto la data di chiusura degli impianti imperiesi, fissata a giugno 2016, slitta a fine anno e non si parla più di chiusura vera e propria, ma di riorganizzazione aziendale. In questo modo nel 2017 la Colussi potrebbe chiedere una cassa integrazione straordinaria per mantenere in vita la storica struttura imperiese. A quanto sembra i vertici di Colussi hanno ribadito la volontà di creare a Imperia un polo della dieta mediterranea, con un centro di controllo della qualità per la produzione di sughi e pasta, il museo della pasta e mantenendo attive anche alcune linee di produzione di pasta di formati speciali. Segnali dunque positivi, anche se non sufficienti a garantire il completo mantenimento degli attuali livelli occupazionali.